Musica Tifosi rosa nero vi ritrovati, la marcia di avvicinamento verso la partita di domenica sera contro l'Inter prosegue con un allenamento pomeridiano, ancora assenti i giocatori impegnati con le nazionali ovviamente Balzaretti, Ilicic, Bacinovic, Zorvas e Zavi e ancora lavoro a parte per Maurizio Piniglia la squadra è in campo per esercitazioni tecnico-tattiche e l'allenamento sarà concluso poi nella classica partitella a ringhimisti in una porzione ridotta del campo, è stata anche la giornata di Fabrizio Miccoli l'attaccante rosa nero ha parlato alla stampa, si è detto sicuro di essere al centro del progetto Palermo l'intervista integrale la potrete ovviamente trovare nella sezione video del nostro portale noi invece insieme andiamo a rivedere l'allenamento odierno del rosa nero attacchi in avanti attacchi in avanti attacchi in avanti attacchi in avanti bravo bravo bianco bianco rosso rosso bianco 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 rosso dai dai ora c'è il bianco bianco dai 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 rientra rientra dacci una mano vieni a calciare adesso vai che ci fai far go dai valserain dai 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 fai di gol ma nuovo non ів ma u